Un piumino che riesce a coniugare praticità, eleganza, leggerezza, tante le caratteristiche che ne fanno un capo particolare. Innanzitutto abbiamo la presenza del cappuccio, questo contrasto molto bello anche di luminosità data dalla differenziazione di tessuto fra ad esempio il cappuccio, le maniche e invece la parte centrale che contiene piumino d'anatra, la zip lunga che permette un indosso facilissimo, bella anche la metalleria, la cintura che è regolabile ma è anche removibile, per cui se vogliamo magari o lasciar scendere il piumino completamente dritto oppure abbinare un altro tipo di cintura magari a contrasto lo possiamo fare tranquillamente. Belli anche i dettagli di questo, perdonami Federica, lo sfondo, la parte finale, anche questo a contrasto che va a riprendere la manica e quindi c'è un continuo giocare fra tessuti e luminosità, un po' come nella vita vero Federica? Infatti giocherò tantissimo con questo piumino, sia in versione casual che in versione un po' di tessuto. Grazie.